salve a tutti benvenuti o bentornati nel mio canale tetocomic 69 manca poco alla fine di questo natale 2022 che spero abbiate passato in serenità e vi voglio leggere una storia tratta dal topolino numero 1882 del 22 dicembre 1991 la storia che è l'ultima di questo albo si intitola topolino e l'indagine di natale con il testo di bruno concina disegni della comic up quest'anno faremo le cose in grande vero pluto un maxi albero ben decorato e tanti amici a pranzo per festeggiare insieme il natale in allegria ah ah dream o proprio adesso attento con quella cesta i palloncini di vetro sono fragilissimi salve giovanotto buongiorno sei tu topolino il detective più bravo del mondo sì sono io ma ho bisogno urgente del tuo aiuto topolino voglio assumerti per il mio papà lui è innocente senti vieni dentro e parliamone con calma grazie io sono sam e lui è riso l'ho chiamato così perché sempre allegro ti abbiamo disturbato stavi preparando l'albero non preoccuparti se lo finirò più tardi anche il mio papà mi avrebbe fatto un grande albero di natale se non lo avessero messo in prigioni dicono tutti che è un ladro ma non è vero i papà non rubano ti pare topolino forse dovresti raccontarmi la storia dal principio sam c'è poco da raccontare il mio papà faceva il babbo natale non quello vero naturalmente lo avevano assunto ai grandi magazzini per le feste capito lavorava mascherato da babbo natale e poi ieri l'hanno trovato con le tasche piene di merce rubata collane d'oro braccialetti gioielli tutta merce sparita dal reparto regali papà è povero ma onesto non avrebbe mai fatto una cosa così brutta tu devi scoprire la verità così lui sarà liberato e potrà tornare a casa ma devi fare presto mancano solo due giorni a natale già però vedi sam non credo sia tanto semplice l'indagine potrebbe anche essere lunga ma non per te so che ci riuscirai dicono tutti che sei un vero segugio allora quale sarà la tua prima mossa semplice ti riaccompagno a casa rifiuti il caso lo accetto invece ma dovrò parlare con la tua mamma per avere tutti i particolari wow a proposito non ti ho ancora chiesto la tua tariffa ci penseremo dopo una cosa alla volta poco dopo sarà meglio che tu e riso andate a guardare la tv sam ma mamma sparite svelti danno i vostri cartoni animati preferiti arrivederci topolino e grazie ci vediamo presto sam spero che mio figlio non vi abbia disturbato topolino per niente stavo solo abdubbando l'albero ma vediamo la nostra indagine oh allora farete qualcosa naturalmente l'ho promesso a sam raccontatemi tutto per favore ahi stiamo passando un brutto momento mio marito era disoccupato così ho dovuto accettare quel lavoro ai grandi magazzini purtroppo qualche giorno dopo l'hanno sorpreso con le tasche pene di refurtiva permettete una domanda delicata signora vostro marito ha precedenti penali no è sempre stato onestissimo fino a ieri ma tutto è contro di lui praticamente l'hanno colto sul fatto capisco beh vedrò cosa posso fare poco dopo temo che tu stia perdendo tempo topolino forse commissario ma ho dato la mia parola e intendo mantenerla guarda tu stesso il fascicolo se vuoi grazie strano sole poche righe le foto e le impronte digitali già non risultava niente a carico di quel foresight fino a ieri ha una faccia onesta da persona per bene il mondo è pieno di ladri con la faccia onesta lo sai meglio di me l'hanno proprio beccato con le vani nel sacco aveva le tasche piene dire furtiva è scritto nel rapporto allora ti sei convinto quasi ma un altro favore da chiedervi vorrei conoscerlo potreste farmi un permesso per visitarlo in carcere eccolo prevedevo la tua richiesta grazie siete un vero amico so che non ti arrendi facilmente ma stavolta dovrai farlo temo spero di no le cose non vanno bene caro pluto il papà di sam sembra davvero colpevole le prove contro di lui sono schiaccianti inoltre inoltre perfino la signora foresight pareva dubitare della sua innocenza prima di conoscere l'interessato mi conviene approfondire le indagini vieni andiamo ai grandi bagazzini ops e così non direi che nessun dubbio è possibile i fatti parlano ai lui aveva le tasche piene di merce rubata vi confesso che sono rimasto molto deluso sembrava un tipo a posto succede purtroppo buon natale direttore la faccenda è fin troppo chiara pluto evidente che il foresight ha ceduto alla tentazione di senesta o forse è meglio sentire prima lui che caso balordo che c'è pluto non abbiamo tempo da perdere dobbiamo anche finire l'albero ricordi mi dispiace ma dovrei aspettarmi fuori i cani non possono entrare carcere di topolinea dai non fare così tornerò prestissimo ho un permesso per vedere il signor john foresight vediamo tutto in regola accomodatevi pure in parlatorio grazie brutto posto per passarci il natale poco dopo ecco foresight il tempo del colloquio è di 15 minuti basteranno grazie piacere signor foresight il piacere è tutto mio topolino ma voi mi conoscete ovvio chi non ha sentito delle vostre imprese voi piuttosto come sapevate che mi trovavo qui dentro semplice è venuto a sem a casa mia e il mio piccolo sem chissà quando potrò rivederlo su non abbattetevi vostro figlio sa che siete innocente e mi ha assunto per dimostrarlo sarà un'impresa disperata topolino tutte le prove sono contro di me poi mi dispiace ma il tempo è scaduto salutatemi sem quando lo vedrete in gamba foresight presto potrete riabbracciarlo voi stesso spero ridicolo afferma di non sapere niente del furto la rifurtiva gli è finita in tasca da sé eppure contro ogni logica sembra davvero innocente allora avete visto foresight si era molto giù di corda poveraccio se non l'avessero beccato sul fatto direi che è innocente purtroppo già purtroppo oh no pluto è sparito qualcuno deve averlo sciolto non poteva aprire il collare da sé ehi sembra la sua voce arf arf ehi ah credo di capire cosa è successo bau bau arf topolino sei uscito finalmente ho liberato io pluto piangeva tanto e mi ha fatto pena da dove sbucate voi due incoscienti volevo aiutarti nelle indagini ho lasciato la tv accesa siamo i vasi e ti abbiamo seguito allora hai visto il mio papà più tardi grazie per avermi telefonato quando ho visto che sembra non era la sua stanza io non preoccupatevi signora forse sono qui da me oh stanno aiutando venicolare l'albero di natale ve li accompagnerò a casa più tardi d'accordo almeno per un po sem si potrà distrarre ma il problema resta credo sarà meglio prepararla l'inevitabile a che punto è l'albero quasi pronto e le tue indagini come vanno quando è che potrà essere libero il mio papà scendi e parliamo nei piccoli vedi ho paura che non sarà così semplice dimostrare provare stabilire mi capisci sì non hai fatto un solo passo avanti vero infatti non ti offendi se ti dico una cosa la colpa è tua tu sei un bravissimo detecti ma ti fidi troppo delle prove però in questo caso non contano no e perché perché papà non rubano topolino prova non credere i fatti ma a me tenterò sam se forse tuo padre vittima di un complotto ha dei nemici lui impossibile è la persona più brava al mondo e se quei gioielli gli fossero finì in tasca per caso non ci credo però ehi la qualcuno potrebbe averci rimesso al proposito questo spiegherebbe tutto ma chi avrebbe fatto una cosa simile se non ha nemici zitto sembra che topolino abbia avuto un'idea bau bau la risposta è una sola un vero ladro ma perché non resta che fare un piccolo controllo se i topolino in effetti ieri mattina è successo un fatto insolito il cassiere aprendo la cassaforte ha fatto suonare l'allarme per sbaglio c'è stato un po di agitazione è corsa anche una volante della polizia ma tutto si è risolto in pochi minuti subito dopo abbiamo smascherato foresight perfetto ci siamo sam finalmente abbiamo fatto un passo avanti vuoi dire che il mio papà è salvo cosa hai scoperto topolino solo una pista promettente per ora vieni ci occorre l'aiuto di un esperto dovremo fare una visitina da chi andiamo da un tuo amico non proprio un vecchio conoscente diciamo poco dopo bravo ciccino un autentico capolavoro modestamente sono un artista quando voglio finisci l'albero vado io ad aprire lo spirito natalizio è una gran cosa il mio tesoruccio sembra quasi un altro topolino salve trudi buongiorno sbam ehi ma gira a largo in piccione il mio gambino è innocente che brutta accoglienza lo so trudi il lauretto sul quale sto indagando non è del suo stile ma abbiamo urgente bisogno del suo consiglio della sua grande esperienza e va bene furbastro ma bada che se uno dei tuoi trucchetti nessun trucco parola ci occorre l'aiuto del signor gambino per liberare il mio papà carcerato beh cos'è questa sgradita intrusione un'emergenza ciccino sembra che topolino abbia bisogno di te la mia risposta è una sola fuori da casa mia non potresti sentire cosa vogliono prima dopo tutto è natale vi prego se non ci aiutate il mio papà resterà in prigione e così questa storia mi indigna profondamente topolino già se è andato come penso in prigione c'è un innocente ma non è questo il punto il vero guaglio è che quel lato non è nei nostri il sindacato del crimine di topolino a natale sospende le attività quel diritto viene da fuoco il dritto viene da fuori nessuno può permettersi lavorare nella nostra storia nella nostra zona senza una regolare autorizzazione e piccolino la vorresti una bella tazza di cioccolata calda wow magari dove andremo a finire di questo passo non esiste più correttezza professionale ti piace è buonissima grazie proprio come la fa la mia mamma quando posso permettercela il mio papà è disoccupato e te ne porto subito un'altra povera stellina quell'intruso merita una lezione topolino lo fermeremo non sarà facile temo per prendere un ladro esperto ci vuole un ladro più furbo sono non sono in re della categoria è chiaro che cerchiamo un professionista e i professionisti sono scrupolosi e abitudinari dunque colpirà di nuovo con la stessa tecnica in un posto simile ma silenzio o se resti dubitare della mia competenza in materia proprio io figurati ricapitoliamo ha scelto un posto molto frequentato è l'ora di massima affluenza e si è liberato del malloppo al primo segno di pericolo giusto giusto è proprio intelligente il signor gambino certo carino fidati di lui ebbene giocheremo la partita con le sue stesse carte ma vinceremo noi ma niente polizzotti tra i piedi ricordalo fantastico un'idea geniale bevi la cioccolata invece di distrarti il bricco è ancora mezzo pieno il giorno dopo fate bravi mi raccomando ciao topolino ciao sam siete sicuro che non ci sia pericolo fidatevi signora tranquilla mamma il piano del signor gambino è perfetto buona fortuna com'è andata ieri alla topolino bene che l'associazione refici non era entusiasta l'idea di ricorrere l'aiuto di gamba di legno perché te lo spiegherò un'altra volta comunque alla fine hanno accettato hanno subito molti furti è troppi ma eccoci al nostro primo babbo natale esca il mio amico pippo come va pippo male ho sempre sognato di vestirmi da babbo natale e quando mi è capitata l'occasione non ho trovato un costume la mia taglia tutto bene orazio a gonfie vele la situazione è sotto controllo tu sei il piccolo se mi immagino e proprio io signor orazio tranquillo bimbo mio vedrai che prenderemo il ladro i piani topolino sono infallibili potresti spiegarmi due cose topolino volentieri perché orazio pensa che l'idea sia sua il merito del signor gambino beh ecco lui è molto modesto e preferisce non apparire troppo in questa faccenda correrebbe il rischio di rovinarsi la reputazione e perché non ti sei travestita anche tu da babbo natale la mia faccia è troppo nota sem il ladro non deve sospettare di niente iu salvi ragazzi novità trudi nessuna ma non è ancora il momento critico prendi questi sem ti addolceranno l'attesa cioccolatini grazie vedrai piccino cattureremo quel furfante i piani del mio ciccino sono infallibili speriamo che almeno stavolta trudi non si sbagli poi guarda topolino siamo arrivati ai grandi magazzini ed ora anche la x e la trappola dovrebbe scattare adesso infatti meglio non avvicinarsi troppo se ci sarà un po di confusione contemporaneamente in tutti gli altri supermercati di topolino è lui topolino mi ha infilato in tasca dei gioielli rubati il ladro abbiamo preso il ladro non ancora se ma prima dobbiamo bloccarlo ma largo sciocchi chi ci vuole altro per fermarmi sta scappando pluto tocca a te non lo catturiamo siamo al punto di partenza che abbiamo girato a largo botoli ringhiosi lasciarmi andare wow il mio papà si è liberato finalmente congratulazioni pietro abbiamo fatto centro ovvio ne dubitavi e così a natale cari amici vorrei brindare al papà di sem e la sua meritata libertà so che avete anche trovato un buon lavoro john infatti sono stato assunto ai grandi magazzini come impiegato di fiducia un momento dov'è il signor gambino eccomi ero andata a prendere il dolce natalizio che abbiamo portato io e trudi è una nostra specialità la torta alle vaso sei un angelo zio gambino a proposito non abbiamo ancora parlato del mio compenso voglio un bacino anch'io eccolo zio topolino bello il natale vero per fortuna dura un giorno solo domani la tregua finirà e io ancora un sacco di trucchetti criminali che non conosci vecchio mio fine grazie a tutti e vi auguro un buon fine natale e ci vediamo presto ciao a tutti